Il tuo spirito può essere abbastanza potente da controllare il tuo istinto. Il tuo istinto sarà quello di ritrarre la mano dalla scatola. Se lo farai, morirai. Avvertirai una sensazione strana. Adesso la sensazione diventerà bruciore, calore, ancora più calore, ancora più calore. Silenzio, silenzio! Non devo aver paura. La paura uccide la mente. La paura è la piccola morte che porta così l'annullamento totale. Guarderò in faccia la mia paura e permetterò che mi calpesti e mi attraversi. Non devo aver paura. La senti la carne che sfrigola. La carne comincia a sfaldarsi. La paura è la piccola morte che porta con sé l'annullamento totale. Impazzisco! Basta! Ora basta! Per il santo Ward, nessuna femmina ha mai potuto sopportare tanto. Togli pure la mano dalla scatola e guardala, giovane uomo. Guardala. Dolore indotto dai nervi. Un uomo può resistere a qualunque sofferenza. Dovevo osservarti in condizione di crisi. Ora capisco che è vero. Grazie.